Chiediamo le dimissioni sia del segretario comunale che del sindaco di Ferrera Erbognone. Il giorno dopo l'esplosione del caso della foto dell'ideologo nazista belga Leon De Grella appesa accanto a quella di Sergio Mattarella nell'ufficio di Mariano Cingolani, segretario del comune di Ferrera Erbognone, piovono le reazioni. A cominciare da Rifondazione Comunista che chiede appunto le dimissioni. Il segretario lascerà in ogni caso Ferrera con la fine dell'anno. Era già previsto. Diverso invece il discorso per il primo cittadino. O il sindaco di Ferrera Erbognone è talmente ignorante che non si rende conto della gravità del fatto, oppure il sindaco condivide questa squallida posizione, scrivono in un comunicato il segretario provinciale Piero Rusconi e il consigliere mortarese Giuseppe Abba. Al partito quindi non sono bastate le giustificazioni che il sindaco Giovanni Fassina aveva dato ai nostri microfoni, spiegando che nella foto appesa in ufficio non era riconoscibile la figura di De Grella come ideologo nazista, dato che il ritratto era molto diverso da quelli che si possono reperire in rete, dove il fondatore del partito rexista appare in divisa. Nelle scorse ore ha preso le distanze da Cingolani la lista civica Cambiamenti per Tromello, che amministra uno dei comuni in cui il segretario presta attualmente servizio. La formazione guidata dal sindaco Gianmarco Negri si mostra sorpresa nello scoprire un lato che non conosceva della personalità del dirigente. Siamo sgomenti, si legge nel comunicato, dall'aver appreso che un membro così importante per la nostra azione amministrativa e con il quale abbiamo lavorato a stretto contatto, sembrerebbe, da quanto riferito dalla stampa, essere così distante dai nostri principi senza che mai vi siano state avvisaglie che abbiano potuto anche solo lontanamente lasciar presagire che i suoi pensieri possano orientarsi verso posizioni dalle quali duramente e inderogabilmente ci discostiamo. A proposito del caso Cingolani, si registra anche una nota dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali. Riteniamo doveroso affermare come sia inaccettabile la presenza nell'ufficio di un segretario comunale come di ogni altro funzionario pubblico di foto rappresentazioni evocative dell'ideologia nazifascista così profondamente contrarie ai valori democratici della nostra Costituzione Repubblicana. Confidiamo che il collega accoglierà l'occasione per prendere chiaramente le distanze da qualunque aderenza alle terribili ideologie di queste tristi pagine della storia e che volentieri eliminerà ogni ombra d'equivoco rimuovendo la foto.